ciao amici miei benvenuti in un altro tutorial per noi è uguale come il tempo che sia freddo che sia caldo ma allenamento non dobbiamo mai mai e poi mai non farlo quindi iniziamo con oggi con dei bei push up che faccio qua questo parco il parchetto per farvi vedere e una volta fatti un paio di esercizi ripetetelo allora partirò facendo dei push up stretti stretti che sono quelli che piacciono a noi per il petto forte e per le braccia forte ok partiamo con ogni esercizio cioè ripetiamo 10 volte con 4 set ok ripetizione 1 ripetete 10 volte 4 set ora facciamo i push up larghi dopo di questo li facciamo un po più stretti tenendo il braccio attaccato al corpo cioè così stretti una volta ripetuti questi esercizi per il per il petto e per le braccia facciamo i triceps da dietro prendiamo posizione cerchiamo magari un po di legno o qualcosa che con un rialzo prendiamo posizione io userò questo gradino che è qua buono per prendermi la posizione e faccio vedere come faccio i triceps ok gradino preso gambe in avanti braccia braccia stese e andiamo giù col culo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 ok come gli precedenti esercizi per ogni esercizio sempre 10 ripetizioni 4 7 che questa è la nostra formula 4 per 10 facciamo 40 ripetizione ogni giorno e poi minimo un'ora di esercizio al giorno e vedrete che il vostro fisico vi ringrazierà e sarete i super 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 fighi di questo mondo grazie se il video vi è piaciuto per favore lasciatemi un like lasciatemi un commento iscrivetevi al canale che mi aiutate con l'algoritmo di youtube e mi invogliate a fare video fantastici per voi grazie 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 grazie